Ehm, perché sussurri? Shhh, se i soldati ci sentono sono morta. Sei tu che lavori per gira ai ribelli, vero Mistius? Sono io. Certo che sì, molti sussurri delle tue gesta Mistius, molti sussurri, anche molti segreti della ragazza ribelle. Se sai qualcosa sputa il rospo. Se i soldati mi vedono mi uccideranno, ci hanno già provato, Apollo lo sa. Vicino al mercato c'è una casa disabitata da anni, intraci, parleremo dopo. Strano, cercherò la casa, voglio sentire cosa ha da dire la mendicante. La casa è disabitata, deve essere il posto giusto. Orme insanguinate, di un bambino, deve essersi nascosto in quel baule. Questa donna fu uccisa e abbandonata senza dignità. Una lancia ateniese le trapassò le costole. Una nota. È un avvertimento di Podarce. Comprava il silenzio di questa donna. Perché? Bambole di legno, madre e figlia. Una ha la lettera M intagliata, l'altra la lettera C. Qui non c'è nient'altro. Devo parlare con quella strana donna. Cosa hai trovato, Mistius? Un corpo, una donna, uccisa da una lancia ateniese. È tutto? C'era una lettera di Podarce. Dice che se lei parlerà, le ucciderà entrambe. Entrambe? Perché uccidere una bambina? A meno che non sia sua. Shhh! Potrebbero sentirti. Ora dimmi, piano, cosa hai scoperto? Le bambole. Con le lettere C ed M. M sta per madre. Mi chiedevi per chi lavorassi. La bambola con la lettera C. La bambina era Cira. Sì, sì, il che significa? Cira era abile con la lama fin da piccola. E Cira conta su di te per aiutare i ribelli che gli dei ci aiutino. Cosa? Incredibile! Se la bambina era di Cira e il padre della bambina era Podarce, significa che... Per Zeus. Podarce è il padre di Cira. Argulto, Horestius. Davvero molto argulto. Cira deve saperlo. Non ti crederà mai, mai! Ha sempre dato la caccia all'uomo che fece uccidere sua madre dagli Ateniesi davanti ai suoi occhi terrorizzati. Ma gli dei risparmierono la piccola Cira. Lei fuggì. Cira deve sapere che Podarce è suo padre. Ma non le parlerò finché non avrò le prove. La donna venne a casa di Podarce in una notte e gli implorò di darle la bambola che Cira fece per lui. Se ce l'ha Podarce, l'avrà tenuta da qualche parte. Solo gli dei lo sanno. Troverò quella bambola. Ora sai perché lavori, Mistius. Anche io le bambola. Se Podarce ha nascosto quella bambola da qualche parte in casa sua, la troverò. Ecco la bambola. Questo luogo è ben sorvegliato. Devo fare attenzione. Ecco la bambola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qualcuno non ha badato a spese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Podarce ha conservato la bambola che Cira fece per lui. Vi incise la lettera P. P di padre. Vi incise la lettera P. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho perso le tracce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'è Cira? Lei è... Ti mancavo di già, Mistius? Cira, c'è una cosa che devo dirti. Che faccia seria. Siediti, rilassati, bevi un po' di vino. ciò che devo dire, c'è un po' di... che razza di scherzo, c'è un po' di scherzo, c'è un po' di scherzo. come l'ha di scherzo, c'è un po' di scherzo. Come l'ha scoperto? Come l'hai scoperto? Non importa come lo so. Ciò che importa è che tu lo sapessi. hai fatto bene a parlarmi in privato. Hai fatto bene a parlarmi in privato. Gli uomini non devono saperlo, almeno per il momento. Ti prego, ora lasciami. Ho bisogno di stare da sola. Gli uomini non devono saperlo. Gli uomini non devono saperlo. Gli uomini non devono saperlo. E' Gli uomini non devono saperlo. Tu saperlo, però quanti c'è un po' di vino lo so spogl tenga un po' di quel bel. Tu saperlo, scoperta di chière molto pescima e****n moje. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.